Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Questo lunedì si apre con un verde molto scuro, soprattutto su BTC, che fa un più 15% rispetto agli ultimi 7 giorni, quindi a 7 giorni fa, a lunedì scorso, con le altre che invece questa volta non seguono sullo stesso passo. Qualcuna magari sì, qui vediamo ad esempio DOT, quindi Polkadot, che fa anch'essa un 15%, Shiba che fa un rialzo addirittura superiore, Wrett, BTC che ovviamente segue BTC, ma le altre a partire da Ethereum non hanno lo stesso slancio. È un po' questo di cui voglio approfondire oggi, di cui voglio parlare oggi, considerando il fatto che questa cosa comunque l'avevo già anticipata in un video di qualche giorno fa. Andiamo su CoinMarketCap e vediamo cosa sta succedendo a livello generale. Innanzitutto la capitalizzazione di mercato totale ha superato i 2343 miliardi di dollari, con una dominance che questa settimana aumenta in modo considerevole, proprio per il discorso che abbiamo appena fatto. Quindi BTC che va a un 45.5% di dominance, Ether si mantiene sul 18%. Il prezzo del gas, quindi il G-Way, è impazzito nel finale della settimana scorsa, si mantiene su livelli molto alti, questo perché c'è una grande euforia sul mercato NFT e tanti nuovi progetti che vengono creati in questo periodo. Prima di andare a vedere quelle che sono le migliori di questa settimana, voglio far notare subito che, come dato molto importante, abbiamo BTC nuovamente a 1000 miliardi di dollari, superiore ai 1000 miliardi di dollari, quindi 1 trillion per la capitalizzazione di Bitcoin. Questo lo porta tra gli asset, con la capitalizzazione più alta al mondo, già lo era, ma con questo dato si porta sempre più vicino alla capitalizzazione dell'argento. In questo momento infatti Bitcoin vale come capitalizzazione, si trova tra la capitalizzazione di Facebook e dell'argento, lo vediamo qui. Sempre più vicino nella sua scalata alla capitalizzazione massima, che tra tutti gli asset è quella dell'oro, a circa 11 trillion. Ed è proprio da quel mercato e da quel tipo di capitalizzazione che Bitcoin sta risucchiando molto. Infatti da diversi dati e da diversi report che ci fanno anche enti istituzionali, molti investitori stanno allocando parte delle loro riserve che hanno in oro e le stanno spostando in BTC. Qui si vocifera molto del fatto che possa poi arrivare un ETF, in tal caso questo fenomeno andrebbe ad intensificarsi, questo è il cuore di tutto. In ogni caso vediamo quali sono state le migliori di questa settimana, velocemente. Abbiamo un rialzo spaventoso di Shiba Inu, settimana scorsa ho fatto un video facendovi vedere di come Bitcoin potrebbe essere visto come unità di misura è calcolato in Satoshi. Questo porterebbe praticamente il no sense di andare ad investire su monete di questo tipo qui, che sono altamente pericolose, altamente speculative. Già feci un video su Shiba Inu. In ogni caso l'euforia del momento portata ovviamente anche dagli scambi che avvengono su Coinbase perché la moneta è stata listata lì, ha portato un rialzo del 222% negli ultimi sette giorni. Questo per me è un indicatore di euforia e di un ritorno appunto dell'euforia, soprattutto retail, su questo mercato. Poi abbiamo diversi rialzi, questa volta ce ne sono comunque molti ma non tantissimi come quando ci trovavamo ad esempio a fine agosto in All Season perché subito arriva praticamente la percentuale molto alta di Bitcoin. Andiamolo quindi a vedere nel dettaglio, questo è il grafico dell'ultima settimana, prezzo che chiudeva settimana scorsa lunedì a 47.000 dollari e oggi si trova in questo momento a 56.600, 56.500 lo vediamo qui a destra. Quindi settimana molto molto positiva, così come lo è stata la finestra temporale di un mese, infatti un mese fa il prezzo era 45.000 dollari, anche qui vediamo un notevole rialzo. Finestra dei tre mesi che come sempre vi consiglio di osservare attentamente, una delle più importanti per capire il trend di mercato, il prezzo valeva 32.000 dollari al 13 luglio, quindi anche qui rialzo molto importante. Un anno fa, neanche a dirlo, abbiamo un riscontro ancora più positivo in quanto il prezzo era 11.000 dollari, cominciava a salire, infatti anche un anno fa verso ottobre il prezzo iniziava la sua scalata. Comunque al momento Bitcoin vale 5 volte di più rispetto a quanto valeva un anno fa esatto. E questo è il grafico all time high che vi consiglierei di vedere in scala logaritmica per vedere anche il suo progresso nel tempo. Andando a vedere invece un'analisi tecnica quindi più specifica sulla coppia BTC-USD, questo è il mercato Coinbase, ogni candela di queste rappresenta un giorno, quindi grafico giornaliero. Si può notare di come le candele e il prezzo quindi di Bitcoin si è entrato nuovamente in questa fascia di prezzo molto importante per capire se andremo nuovamente verso l'all time high. Infatti si è superata la resistenza dei 50.000 dollari che adesso faccio fatica a poter disegnare in verde, a colorare in verde perché effettivamente non è stata mai testata per bene. Sembrerebbe però che possiamo vedere un piccolo retest a 50.400 che in effetti se andassimo a vedere anche candele precedenti, quella del 4 settembre e quella del 23 agosto, sono state delle resistenze al prezzo a livello di analisi tecnica. Quindi magari invece dei 50.000 esatti che comunque è un livello psicologico potremmo portare questa resistenza, quella che prima era una resistenza, ai 50.400 circa, 50.500 adesso la differenza è veramente lieve e magari segnare questa come un eventuale supporto in quanto la candela del 6 ottobre ha provato a trovare un supporto qui. Cosicché avremo il nostro range di prezzo, la nostra fascia 50.400, 61.700, 62.000 più o meno è questo, poi lo andremo a delineare meglio col tempo e con i giorni che passeranno. Adesso vedremo una volta entrata in questo spazio come si comporterà appunto anche la price action. Da qui possiamo vedere che l'RSI si è portato in una zona molto vicina all'ipercomprato ma comunque non è ancora in ipercomprato, questo è un buon segnale nonostante il rialzo importante. Il prezzo è nuovamente sopra sia la media mobile a 50 che a quella 200, quindi anche questo segnale molto importante e quello che avevamo visto il 14 settembre, ossia il Golden Cross, sembra cominciare a far vedere i suoi effetti anche a livello di analisi tecnica. Per quanto possa essere bello e per quanto possa attirare e poter leggere adesso un ulteriore andamento solamente da quello che vediamo qui non è realmente affidabile. Quello che possiamo dire è che mantenendoci più generali e più semplici alle volte abbiamo una lettura anche più affidabile perché quello che conta è capire adesso il trend e quello che potrà succedere. Quindi andiamo a vedere a livello di analisi fondamentale le 5 cose da osservare questa settimana su Bitcoin. Un aspetto molto importante è notare di come Bitcoin stia facendo il suo andamento slegato da quello delle altcoin. Infatti è stato evidente dai grafici che vi ho fatto vedere di come il rialzo di Bitcoin non sia seguito in questo momento qui anche ad esempio da Ethereum o da altre. Questo perché come vi spiegavo in questo video della settimana scorsa vi faccio riascoltare cosa dicevo. E come leggere questa fase di mercato? Ricordo che solitamente questo mercato funziona così, va avanti così da diversi anni. Ossia quando c'è una fase rialzista per il settore Bitcoin è la porta d'ingresso. La maggior parte dei volumi potrebbero arrivare ad esempio in caso di accettazione di un ETF proprio da qui da Bitcoin. Anche perché l'ETF in caso sarebbe accettato proprio su BTC. Quindi una prima fase rialzista se dovessimo andare verso un'altra importante bullrun, magari quella definitiva di questo ciclo, cosa che ripeto io non so e non è certa, allora i soldi arriverebbero qui. Solo in una seconda fase vedremo un rialzo e una redistribuzione a partire da asset più capitalizzati come ad esempio Ethereum, che a quel punto potrebbe veramente avere uno slancio verso i suoi 5.000, 10.000, chi lo sa, e poi ci sarebbe un'esplosione di tutta la foresta sottostante perché la redistribuzione una volta entrati su Ethereum si avrebbe anche sui diversi token e su tutte quelle strutture EVM compatibili. Visto che lo scenario era già stato quantomeno spiegato e anche in anticipo non vorrei ripetermi anche in questo lunedì dove ho comunque tante cose da dover osservare. E qui addirittura gli analisti parlano che un alt season dopo questa bitcoin season potrebbe arrivare anche nel 2022, quindi potremmo anche vedere un finale dell'anno con protagonista bitcoin e poi vedere tutta l'alt season in una fase addirittura successiva, addirittura nell'anno prossimo. Vedremo, su questo non saprei quanto potrebbe durare appunto ogni singola fase. È importante osservare e capire più o meno, perché tanto le tempistiche esatte è difficilissimo se non impossibile poterle prendere, però se abbiamo una lettura generale sappiamo come poterci muovere o come poterci non muovere, che alle volte è la cosa che magari paga di più. Ovviamente molto interessante è andare ad analizzare dove ci troviamo anche in comparazione con gli scorsi cicli e anche di questo ho fatto un'analisi, troverete un altro video, sempre sul mio canale, che è questo qui, perché credo che il bull market continuerà, dove appunto mettevo in copertina, non è finita qui, in un momento tre settimane fa che si andava a riscontrare un bel po' di paura anche su bitcoin. Lo vediamo appunto dal fear and greed index che tra un po' vi faccio vedere e vi faccio vedere anche la differenza che c'è in questo momento qui. Allora, gli scorsi cicli sono stati quelli del 2013 e del 2017 e il loro andamento è stato poi, da questo momento e poi, da ottobre in poi, abbastanza parabolico. Non è detto che le cose si vadano a ripetere in questo modo qui, perché, come dico sempre, gli scorsi episodi sono stati solamente due, quindi questo sarebbe solamente il terzo. Dire che le cose vanno così perché abbiamo avuto due precedenti simili non è abbastanza affidabile. In ogni caso c'è anche un concetto di profezia autoavverante, dove molti magari si aspettano un eventuale rialzo e quindi aumenta anche l'euforia e la potenza di investimento che c'è in un determinato asset. Cominciamo a fare qualche analisi un po' più fondamentale. C'è stato un record storico di transato su bitcoin, ossia il controvalore in dollari dei bitcoin scambiati in un singolo giorno ha raggiunto i 31 miliardi di dollari. 31 miliardi di dollari scambiati sulla rete bitcoin e questo è un nuovo record, infatti il suo top era stato quello dei 30 miliardi. Ovviamente è molto legato anche al prezzo che sale, perché quando un singolo bitcoin vale di più è più facile muovere volumi più grandi, ma è proprio anche legato all'aumento di utilizzo del sottostante stesso. Infatti, come vi accennavo, la narrativa sta pian piano cambiando. Da riserva di valore che non si tocca, bitcoin sta diventando una riserva di valore che può avere un sottostante per una struttura di scambio di valore decentralizzata. E quello poi è il suo obiettivo finale. Quello da cui è partito però in diverse fasi aveva necessità bitcoin stesso di difendersi da attacchi esterni e da narrative esterne, andando a creare una sua narrativa che ne andasse a dimostrare il valore e la sua utilità in un determinato momento. Il ciclo precedente, quello che è andato dal 2016 al 2020, ha visto il bisogno di andare a creare una speranza verso un asset che potesse fornire una riserva di valore slegata dal mondo finanziario delle fiat e quindi andava in quella direzione qui, in quella direzione. Adesso che c'è un probabile declino anche delle fiat e di quel sistema transazionale, bitcoin potrebbe prendere quel posto se dimostrerà di essere valevole. E oggi voglio farvi vedere anche dei dati, questa volta on-chain ma non legati al mercato, legati a quanto sta crescendo anche l'infrastruttura di scambio con la Lightning Network che è a livello superiore a bitcoin, quello che si andrà a utilizzare per scalare il sistema a livello di utilizzo. La capacità della Lightning Network calcolata proprio in bitcoin che si trovano bloccati su questo layer superiore sta crescendo sempre di più. Adesso ha raggiunto un valore superiore ai 3.000 bitcoin bloccati che con un valore di bitcoin superiore ai 55.000 dollari è un bel controvalore. Tutti i dati legati a questa rete stanno crescendo, quella dei nuovi nodi, qui vediamo i nuovi nodi Lightning che vengono creati e qui i nuovi canali Lightning che vengono creati. Ci sono sempre di più. Questo grazie anche a notizie di natura fondamentale che sono arrivate durante quest'anno come ad esempio quella di El Salvador che non è una notizia che impatta in un giorno tutto quanto il settore ma nel tempo sta portando questi riscontri. E questi riscontri poi lì si vedono anche sul prezzo e anche sul mercato perché consideriamo che quei valori lì di nodi e canali comportano anche un blocco di bitcoin all'interno di essi perché la Lightning Network funziona in quel modo e quei bitcoin bloccati ovviamente non sono bloccati con dei time lock ma sono comunque messi su un layer che va a diminuire il quantitativo dei bitcoin circolanti, quantomeno diminuisce ad esempio quelli sui exchange in parte. E quindi questo supply, questa supply in diminuzione nel circolante porta sempre di più verso un probabile supply shock di cui ho parlato spesso. ossia sempre meno bitcoin si trovano a disposizione per gli acquisti, la domanda però tendenzialmente è crescente. Conseguenza naturale è l'aumento costante del prezzo, costante visto su time frame più allargati. Ovviamente poi la volatilità giornaliera si fa sentire perché la speculazione su questo mercato è comunque molto forte. La grande scintilla di questo bull market è comunque sempre l'approvazione degli ETF. Sembrerebbe ormai dato per scontato un po' da tutti che potremmo vedere degli ETF negli Stati Uniti accettati entro la fine dell'anno. Io la mano sul fuoco non ce la metterei, in ogni caso sembrerebbe proprio che il sentiment vada verso quella direzione, che tutti lo aspettino anche da parte di analisti importanti o esperti del settore, del settore finanziario in questo caso intendo. Anche perché è un prodotto che è richiesto a gran voce da tutti coloro che per necessità stanno comprando bitcoin e magari si rivolgono a istituzioni come Grayscale, lo abbiamo visto durante questi anni, durante gli ultimi due anni. E tra l'altro anche le azioni di una società come MicroStrategy che investe in parte e che ha parte della liquidità in bitcoin, in gran parte della liquidità in bitcoin sta vedendo grandi domande, quindi è ovvio che ci sia una richiesta sul mercato per quanto riguarda uno strumento finanziario regolamentato e che dia più sicurezza agli investitori istituzionali. Vedremo cosa succederà. Qui da un certo punto di vista non possiamo fare previsioni, è ovvio che se dovesse essere accettato un ETF molto probabilmente andremo verso la vera bull run di questo ciclo. Parliamo della paura e dell'avidità perché vi ho detto di come effettivamente sia salita l'avidità, adesso lo vediamo è a livello 71, però effettivamente non è così alta come abbiamo visto esserlo sullo stesso prezzo a inizio anno. Infatti quando bitcoin aveva superato per la prima volta i 35.000-40.000 dollari, ecco che l'avidità aveva già raggiunto un livello verso il 95, 90-95. Invece adesso che si è raggiunto in primavera l'alltime high dei 64.000 è come se tutti dessero per scontato che bitcoin prima o poi ci torni e quindi quando bitcoin si trova a 55.000 dollari c'è un livello di avidità ma non siamo in avidità estrema, siamo in avidità a livello 71.000 e questo è molto positivo perché fa notare, denota praticamente la sostenibilità di questa crescita rispetto alla crescita che c'era stata. molto esplosiva ad inizio anno. Ci vuole anche per le persone del tempo per avere un'abitudine anche sull'accettazione di un livello di prezzo. Se bitcoin toccasse i 100.000 dollari, quando bitcoin magari torna a 70, 60 o 50 viene reputato cheap, viene reputato economico un po' da tutti perché sia un riferimento, un ancoraggio verso un prezzo più alto. In questo momento in primavera abbiamo visto un esploat abbastanza anomalo del prezzo verso i 64.000 dollari. Questo ha creato nella testa di tutti un certo tipo di ancoraggio, tanto che quando il prezzo è sceso verso i 30.000, i molti non esperti definivano questa fase come un crollo, come una fase deprimente anche a livello economico, quando invece era comunque un prezzo molto più alto rispetto al prezzo degli ultimi 12 anni. Infatti solo l'anno precedente il prezzo era inferiore a 20.000 dollari. Però i mercati funzionano in questo modo, quindi adesso tutti sono ancorati verso i 64.000 e bitcoin verso i 55.000 non dico dia quasi noia, ma non ha quell'entusiasmo che abbiamo visto quando il prezzo entrò nella stessa fascia a febbraio di quest'anno. E quindi anche l'avidità ne risente. E le persone tendono quindi a non sentirsi in bolla, non vendere, ma anzi continuare ad accumulare perché si aspettano ritorni e prezzi ancora più alti di questo. È per quello che nel mercato, nella volatilità che c'è, si va su e giù e nel tempo si consolidano determinati livelli e si hanno determinati supporti. C'è infatti chi parla di un supporto adesso probabile ai 50.000 dollari. Lo abbiamo visto prima nell'analisi tecnica. Importante ricordare che il 30 settembre, ad esempio, che era solamente due settimane fa, l'indice misurava 20 su 100, ossia paura estrema. Due settimane fa il mercato risentiva un effetto di paura estrema. Per quello, quando vi dicevo quando ho fatto questo video qui, perché credo che il bull market continuerà, era un periodo particolare, era addirittura prima, tre settimane fa. Qui facevo delle analisi on-chain più specifiche e vi consiglio di guardare questo video per capire cosa sta succedendo adesso. Muovendoci oltre Bitcoin, oggi voglio ricordare del fatto che tutti i paesi si stanno muovendo in direzione CBDC, ossia Central Bank Digital Currency. Tutte le monete che conosciamo, l'euro, il dollaro, lo yen, lo yuan, le monete nazionali, hanno già un programma per diventare digitali, puramente digitali, quindi sparirà il contante. E tutte queste monete verranno emesse in forma centralizzata, sempre dalla banca centrale del paese, ma in forma digitale, chiamata appunto Central Bank, banca centrale, digital currency. Valute digitali. Nel 2019 abbiamo iniziato a parlare anche di Libra, un concetto di stablecoin o comunque di moneta digitale emessa da un consorzio di cui faceva parte Facebook, di cui Facebook era diciamo il cuore del discorso. Il progetto Libra, dopo diversi attacchi di regolamentazione, è stato rebrandizzato ed è diventato Diem. Adesso il progetto si chiama appunto così, Diem, ma non cambia poi effettivamente troppo. La grande differenza è che prima era pensato per essere una moneta, una stablecoin, basata su un paniere di altre monete e non avere un riferimento specifico. Adesso sembrerebbe il tutto essere orientato verso la creazione di stablecoin pegate proprio sulle fiat, quindi ad esempio sul dollaro, sull'euro. E questo verrà chiamato Diem. Anche l'associazione Libra è stata rinominata associazione Diem, nel dicembre 2020, e andrà a gestire tutto il progetto. Quindi, questo non è un discorso morto, è un discorso che si muove con tempi molto più lenti rispetto a quelli a cui siamo abituati noi. Perché? Perché il mondo crypto, essendo libero, si muove molto più veloce perché non ha il rallentamento delle regolamentazioni. Quindi per tutti quelli che amano dire eh, ma questo mercato, questo settore va regolamentato perché così non va bene, considerate pure che quando arriverà una regolamentazione molto più aggressiva, l'evoluzione del settore non sarà più quello che stiamo vivendo oggi. Andrà tutto più lento, come avviene appunto su Diem, che per fare un passo deve chiedere il permesso e quindi aspettare giorni e giorni e giorni. Comunque il progetto va avanti. E molto probabilmente andremo a vedere, anche nel giro di qualche mese, il rilascio delle stablecoin create proprio da questa associazione. E potranno mescolarsi quindi con tutti i vari progetti che noi conosciamo. Magari su Yexchange vedremo anche queste stablecoin emesse da questa associazione qui. È un po' come un USDC per capirci. E qui parliamo di una società privata. In contrapposizione, come vi ho detto, tutti i paesi invece stanno studiando le loro CBDC e quelle sono invece emesse dalle banche centrali dei vari governi. L'ultima in ordine di approvazione è stata la INAIRA che è la moneta della Nigeria che ha passato praticamente l'approvazione dell'alta corte federale e sarà emessa appunto in forma del tutto digitale come INAIRA una currency digitale emessa dalla banca centrale nigeriana che però avrà una diffusione che potrebbe andare anche all'esterno del paese stesso e sarà gestita da l'INAIRA wallet. Questo più o meno è l'andamento che si sta prendendo e la grande contrapposizione che c'è. Per rendere le idee più chiare anche qui vi faccio un richiamo a un video importante che è stato abbastanza snobbato purtroppo nel mio canale che è quello dove spiegavo la differenza tra monete digitali e cryptocurrency che non è la stessa cosa. Andatevi a vedere quel video vi rilascio la scheda. Qui il fatto è che si vuole risolvere un problema cambiando la facciata. è come se un libro scritto male diventasse a un certo punto buono solamente cambiandogli la copertina. Non funziona così. Il problema è che la moneta governativa nigeriana NAIRA comunque aveva delle problematiche proprio dettate da decisioni di emissione della banca centrale stessa. E queste cose rimarranno. La struttura di emissione verrà comunque gestita da una banca centrale. Quindi che sia poi in forma puramente digitale il problema alla radice è sempre lo stesso. Cosa differente è per monete come ad esempio Bitcoin. Per quello si parla tanto di paesi come El Salvador con tutte le critiche che ci si possano fare ma ha scelto di prendere una via diversa adottare una moneta di cui non controlla l'emissione e di cui non controlla assolutamente nulla se non i Bitcoin che compra. Come vi facevo vedere le commissioni su Ethereum sono andate alle stelle. Questo perché il mercato degli NFT sta veramente vedendo una nuova primavera. e sembrerebbe che anche Twitter e TikTok si preparino ad abbracciare questa nuova forma di asset digitali. Molto interessante vedere questo tweet di Mada Aflac che è una software engineer quindi un ingegnere del software a Twitter che fa vedere come stanno implementando l'integrazione di NFT da mettere appunto nell'Avatar. Quindi praticamente nell'Avatar di Twitter si potrà scegliere un file normale quindi che risiede localmente sul nostro dispositivo e selezionarlo come foto oppure selezionare un token non fungibile un NFT da una blockchain. Ovviamente dobbiamo avere il possesso in questo caso di quel token e quel token dove lo possediamo? Lo possediamo nel nostro wallet. Quindi verrà selezionato il wallet in cui lo possediamo si connetterà, si andrà a collegare il wallet a Twitter si verifica l'address appariranno tutti gli NFT che sono contenuti in quell'indirizzo andiamo a selezionare l'NFT che vogliamo impostare e l'NFT viene messo come avatar in più come prova di autenticità verrà visualizzato il logo della blockchain dove questa NFT viene custodito dove questa NFT risiede e viene contabilizzato o verificato. Questo per farvi capire di quanto effettivamente il mondo NFT stia entrando di prepotenza nel mondo che conosciamo nel mondo digitale che conosciamo. Mondo digitale dei social e mondo blockchain con le NFT sarà presto un tutt'uno e molto difficile da distinguere. Fenomeno che sta succedendo anche su TikTok che è uno dei social più importanti ormai in questo momento TikTok il 28 settembre ha rivelato il lancio di una collezione NFT ispirata praticamente ai creator principali che sono sul social. È un approccio ovviamente diverso rispetto a Twitter anche perché il social è di natura molto diversa rispetto a Twitter. e qui si andranno ad avere appunto delle collezioni magari dei momenti le stesse non so se si chiamano storie o comunque i video che vengono caricati o i contenuti che vengono caricati sulla social stesso potranno essere mintati praticamente potranno diventare dei momenti da collezionare e da possedere tramite NFT. Visto che vi piace quando esprimo la mia opinione ovviamente l'approccio che ha avuto Jack Dorsey e che ha avuto Twitter è di gran lunga superiore a mio modo di vedere rispetto all'approccio che c'è su TikTok ma non c'è da stupirsene. E parlando di NFT la scorsa settimana arriva una notizia veramente bomba che è quella della .Wallet Alliance praticamente Unstoppable Domains fa sapere al mondo che si è creata una alleanza tra i più grandi fornitori di wallet per creare uno standard gestito appunto da NFT con il dominio .Wallet fanno parte di questa alleanza questi nomi qui quindi tra i più importanti del settore OneInch ArcBlock Avalance Wallet Bacor Beardchain Bitcoin.com Bitinka CakeWallet Cheaper qui ne vediamo diversi c'è MyEtherWallet Nimic Portis TrustWallet insomma ce ne sono veramente tanti sono 30 a cosa servono questi tipi di alleanze servono per poter andare a delineare determinati standard ossia dire al mondo ok facciamo così perché è meglio perché diventa molto più semplice per tutti avere una convenzione di utilizzo di questo settore e tutti coloro che hanno utilizzano questi questi address rappresentano circa 40 milioni di utenti e questi 40 milioni di utenti potranno essere forniti di un loro dominio .wallet dove potranno ricevere appunto le cripto in che modo praticamente se facciamo l'esempio mio avessi il dominio tiziano tridico .wallet a quel dominio lì che è un NFT che io posseggo come token nel mio wallet collego degli indirizzi su cui posso ricevere dei pagamenti e a quel punto invece di dover condividere gli indirizzi che sono complicati quindi non posso ricordarli a memoria ma devo per forza passarli facendo un copy and call e quindi vengo esposto anche a degli attacchi a livello di sicurezza e a degli errori anche chi invia potrebbe sbagliare sarebbe molto più semplice che io dicessi guarda inviami il pagamento a tiziano tridico .wallet e io lì ho tutta la mia gestione di wallet so che se ricevo bitcoin ricevo bitcoin su un indirizzo che io ho collegato a quel dominio e questo sta diventando standard anche perché verrà portata avanti questa cosa grazie a questa allianza che qui leggo essere 32 non 30 come ho detto in precedenza molto molto importante come vi dicevo ormai tempo fa e anche qui oggi è la giornata in cui chiamo video più precedenti però anche questo avevo anticipato vi dicevo di come la corsa verso i domini .crypto e domini diciamo nft era ormai iniziata in questo momento vi consiglierei anche di andare a guardare i domini .wallet perché se diventeranno nel tempo uno standard come sembra stia accadendo potranno poi anche essere difficili da reperire e aumentare nel loro valore ad esempio un dominio come john.wallet o marco.wallet potrebbe essere molto ambito e quindi andate a fare una vostra ricerca qui vi lascio tra l'altro una landing page che è stata creata gentilmente da Unstoppable Domains dedicata proprio a me quindi vi lascio questo link da qui c'è una spiegazione tramite un video di cosa sono i domini nft un po' di dati e da qui si può cercare direttamente i vari domini ad esempio si cerca appunto la disponibilità di marco.wallet e si viene ridirezionati verso il sito ufficiale con la possibilità d'acquisto in questo caso abbiamo una certa disponibilità alcuni non sono ancora disponibili come ad esempio .x.coin e .zil ma gli altri sono in vendita e quello .wallet come mi potevo aspettare ha un valore molto alto infatti marco.wallet è quasi 10.000 dollari di valore già è comunque disponibile questo è per farvi un esempio vi lascio questo sito in descrizione per approfondire il discorso e anche capire di cosa sto parlando ho fatto un video leggo spesso nei commenti che c'è curiosità sui progetti che sto seguendo oltre ovviamente ai progetti più grandi come quelli di cui parlo nei vari video dedicati oppure bitcoin oppure ethereum e ovviamente sto seguendo l'evoluzione di tutto l'ecosistema quando cerco di fare degli aggiornamenti complessivi sulla DeFi ogni tanto butto dentro appunto le cose più interessanti ma seguo anche le varie start up se vogliamo se possiamo definirle così e soprattutto queste le riporto quando leggo qualche tweet quindi se seguite il mio account twitter vedrete che ne seguo diverse in alcune poi vado anche ad investire personalmente in altre invece seguo per vedere il loro andamento anche perché magari poi sono legate a dei partner partner che possono essere del mio canale possono essere quelli di coin square e quindi andiamo un po' a monitorare quello che succede la mia filosofia è quella ultimamente di aver imparato a seguire il flusso dei soldi ossia veramente follow the money è quello che spesso conviene fare in campo investimenti e tra i vari progetti che sto osservando in questo periodo c'è anche questo strips finance che sta per lanciare in IDO tramite una dutch auction che non conoscevo cioè conoscevo la modalità ma non conoscevo la piattaforma di sushi che ha miso questo è anche un aspetto interessante quindi due cose diverse uno è il progetto che è strips finance che sembrerebbe essere abbastanza interessante soprattutto nell'ottica in cui ho visto chi ci sta investendo dietro per quello che dicevo follow the money anche perché sapete seguo da tempo ormai l'universo crypto.com e quando crypto.com capital investe in qualcosa ci ripongo sempre abbastanza attenzione infatti se andiamo a vedere anche qui come capitali di investimento che hanno hanno investito in questi diversi progetti al momento tra cui ad esempio dentro c'è anche ledger e qui vediamo questo progetto qui che è strips ma oltre a questo ce ne sono altri come mechanism capital finlink capital prinks ventures magic ventures defiance capital e defi allianz quindi insomma questo ha attirato la mia attenzione e questo è un progetto che vuole andare ad aumentare l'efficienza dei mercati in quanto si focalizzerà prevalentemente sul mercato e sullo scambio dei derivati legato ai tassi di interesse che si hanno nei vari progetti e nelle varie defi discorso abbastanza complesso ma appunto era solo uno spunto la cosa che mi ha attirato è anche questa modalità di lancio che è una modalità abbastanza nuova per quanto mi riguarda me lo sono andato ad approfondire e miso è una piattaforma che consente questi lanci qui prima che questi vadano appunto in edio infatti in parallelo a miso c'è anche polka starter per questo progetto e la dutch action è un processo per cui il prezzo parte prima alto poi più diminuiscono i token in vendita perché sono un quantitativo limitato messi a disposizione e più il prezzo si abbassa quindi al contrario di come siamo abituati abbastanza interessante tra l'altro l'applicazione su sushi sembra essere fatta abbastanza bene e partecipando in questa modalità si ricevono anche dei sake come token della piattaforma che poi possono essere scambiati oppure messi in liquidità su sushi stesso tutto un discorso legato appunto ai vari mattoncini lego della defi detto ciò sempre mantenendoci su filone crypto.com sta per arrivare cronos siamo a metà praticamente della fase di incentivized testnet sono state performate più di 2 milioni di transazioni sulla testnet sono tante 18.000 indirizzi hanno fatto operazioni e ci sono già 400 smart contract deployati su questa testnet qui su questa rete di prova manca poco perché lunedì prossimo verrà lanciato in mainnet quella che sarà l'ethereum virtual machine compatibile legata all'ecosistema crypto.com bene per questo lunedì è tutto quindi lunedì prossimo andremo a vedere anche questa cosa intanto ci sono tutti gli appuntamenti consueti della settimana mercoledì faremo un esmianiting con filippo alle 18.30 dove andremo a vedere anche dove questo bitcoin e questo mercato può arrivare in questo momento qui e andiamo ad analizzare nello specifico l'ultimo trimestre dell'anno quello che può succedere con le vostre domande ovviamente mentre questa sera già a partire da oggi alle 21.30 su coinsquare tv che si trova su twitch c'è l'appuntamento con Sorare quindi per chiunque segue il mercato e il mondo Sorare ci troviamo alle 21.30 su canale coinsquare tv su twitch andate poi a vedere la programmazione perché ci sono appuntamenti tutti i giorni per il criptomunday ci vediamo invece lunedì prossimo buon proseguimento di giornata e buon lunedì a tutti 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 Grazie.